Ben tornati carissimi nel canale dello Zomaru con un nuovissimo video YouTube assieme a me, oltre alla grandissima chat di Ducitalia, Linfor nazionale Buonasera Linfor Allora, Linfor è uscita una patch molto molto nota patch in realtà quindi quelle diciamo settimanali che però va a toccare molto il meta vediamo che cosa sono andati a toccare vi diamo il benvenuto ad un nuovo OTA il rilascio di Arishem ha scombustolato il meta eh, non l'avremmo mai detto ed è stato davvero elettrizzante, è molto elettrizzante osservare il hype generato da questa carta tuttavia, sebbene la sua percentuale di gioco sia stata senza precedenti non si può dire altrettanto del suo tasso di vittoria anche perché è una carta completamente RNG ma il problema è infatti ragazzi quello che non capiranno mai alla secondina ma non solo alla secondina in tutti i giochi di carte purtroppo io sono arrivato a una conclusione loro sanno fare i programmi sanno fare i software sanno fare quello che vi pare hanno anche le idee e non hanno la più pallida idea di come bilanciare il gioco perché continuano ad attaccarsi alle statistiche il win rate in una carta che è random mi spiegate che senso può avere? quanto può avere senso la statistica del win rate della carta? cioè se tu non tocchi Arishem perché la motivazione è che la win rate non è così alto è ovvio che non è così alto è una carta completamente random che può far vincere è perdere chiunque cioè questo è il motivo per cui tu dovresti bilanciare quella carta non è il win rate è ovvio che il win rate non sia alto perché la carta non è una carta solida come tutte le carte casuali di qualsiasi gioco di carte cioè questa cosa è assurdo che ancora ad oggi dopo 30 anni che esiste magic siamo qui a discutere di bilanciare una carta siamo discutendo sul win rate di una carta cioè è assurdo cioè è una cosa che non si può sentire vabbè comunque ho fatto questa piccola digressione sul win rate giocare contro i manzi Arishem ha creato dei scenari più disparati e io direi anche disperati dovuti alla casualità intrinseca che introduce nelle partite che bello l'imminente rilascio di Cassandra Nova dovrebbe offrire ai giocatori un altro strumento allora questa è un'altra cosa che mi fa imbestellire non è che se tu fai una carta che uccide un'altra carta allora tu hai fatto un buon lavoro di bilanciamento no no tu devi bilanciare una carta per renderla giocabile più o meno sempre più o meno sempre significa che ci saranno dei meta in cui è più top tier dei meta dove non è top tier ma una carta è giocabile perché la gente che prende una carta vuole che la carta sia giocabile non vuole che la carta sia OP un mese e il mese dopo non ha più un mazzo da giocare ok questo ovviamente a loro fa comodo perché se dopo un mese ti ritrovi senza un mazzo da giocare tu sei invogliato a spendere i soldi per farti un altro mazzo purtroppo il sistema ragazzi è un circolo vizioso che vota quello io sono contro questi sistemi tossici per fare i soldi io sono per i sistemi puliti cioè tu fai bene il tuo lavoro la gente è contenta la gente spende i soldi no questo è un sistema troppo bello troppo mettiamo tossicità nel gioco e facciamo spendere i soldi alle persone perché si devono attaccare al gioco in maniera negativa cioè morbosa non in una maniera sana però vabbè e andiamo avanti quindi l'imminente rilascio di Cassandra dovrebbe offrire ai giocatori un altro strumento ottimale di contrattacco quindi per ora agiremo sulle componenti sinergiche più importanti nel tentativo di ampliare la rosa delle strategie sono tutte puttanate sono tutte puttanate vogliono che la gente compri Arishem perché Arishem è una carta meta definer quando avranno preso abbastanza soldi allora lo nerferanno questo è quello che faranno e noi ci giriamo intorno ed è il motivo perché oltre al season pass io non do più un euro al second inner quando diventeranno onesti sarò contento di tornare a dare i miei soldi blob eh questo è un cambio importante questo è un cambio molto importante perché il problema per la second inner sono sempre le interazioni tra le carte non la carta stessa quindi blob adesso non ha più l'effetto ongoing gliel'hanno tolto così hanno detto ok non potete più fare mistica su blob eh grazie 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 non potete fare più rogue su blob il blob rimane una carta che fa un sacco di punti rimane una carta estremamente sinergica nei mazzi Arishem è un cambiamento subdolo a me non piace per niente cioè togliere una cosa che era una cosa figa di blob cioè il fatto che non poteva essere spostato perché per l'interazione con rogue e con mistica quindi il problema è l'interazione di rogue e mistica non è blob però vabbè torniamo così sì lo potevano anche lasciare Fabrics l'effetto che non si poteva muovere magari non metterlo come effetto continuo ma come una passiva perché tanto ci sono carte che hanno le passive tipo l'opcio che non è un effetto continuo quindi poteva averlo anche blob ma fanno come gli pare quindi ormai lasciamo stare che ne pensi di questo cambio a blob cioè prima se tu vuoi misti la tua blob misti la tua stessa posizione allora ultimamente cioè nelle ultime patch negli ultimi forse tre mesi quattro mesi mistica e rogue adesso copiano anche un eventuale effetto ongoing nel caso di mistica che copia gli effetti continui e nel caso di rogue che ruba gli effetti continui ruba anche gli effetti insomma un reveal ok ok bella per storming buonasera caro quindi adesso hanno fatto questa cosa per far sì che mistica non non possa più copiare l'orrevial perché essendo che non ha più un effetto ongoing blob capito tu non puoi fare mistica su blob perché blob adesso non ha più l'effetto ongoing e come diceva Fabrics potevano lasciargli non può essere spostato e togliere l'effetto continuo però chiaramente d'accordo con la vostra questo è il discorso però andiamo avanti ragazzi questo è solo l'inizio è solo la carta comunque ha ritrovato il gioco grazie ad Arsham questo per cari sembra una carta molto balanced Mockingbird signori passa da 5-9 a 6-10 ma tu mi devi dire una carta che nel 90% delle partite giochi a costo 0 aumentare un costo in più per dargli un costo un voto in più questo non è ovviamente non è un buff però in alcune circostanze lo è nel senso che costerà 0 e quindi si ritroverà a essere una 10 l'unica cosa positiva se ne vogliamo parlare è che adesso va sotto a Shang-Chi quindi in caso in cui vi fanno Mockingbird alla fine voi ci avete Shang-Chi in risposta magari la potete uccidere però ragazzi veramente questo questo cambiamento è ridicolo l'info vuoi aggiungere qualcosa? no ok Bob che in realtà non è si Bob gente del leader proprio lui idra Bob passa da 1-4-1-5 questo è uno dei buff più veloci della storia cioè nel corso di una settimana penso che quasi nessuno abbia preso idra Bob perché parliamoci che ormai una 1-4 nel metà adesso di Marvel Snap non sposta niente se poi questa 1-4 ci si sposta anche in maniera casuale quando qualcuno snappa quindi non abbiamo neanche troppo controllo e allora hanno detto facciamola 1-5 1-5 attualmente quindi raggiunge il body di Titania Titania che ha un effetto rischioso idra Bob non ha un effetto rischioso come Titania quindi attualmente 1-5 sembrerebbe essere una super carta worth questo buff rende idra Bob una carta molto buona secondo me perché soprattutto giocarlo a fine partita ci sono dei mazzi che vogliono giocare la carta a costo 5 ok e quei mazzi vogliono appunto completare il turno spendendo il mana rimanente con una giocata che spesso e volentieri a volte è stato The Hood adesso i trap Bob lo potete giocare a turno 6 finale insieme a un drop a 5 ed è molto buono quindi i trap Bob secondo me è diventato 1-5 è una carta che ha senso anche craftarlo anche prenderlo anche in un mazzo swarm in un mazzo si in un mazzo swarm diventa uno di troppo uno più soliti a livello di punti perché comunque Ant-Man dovete riempire la location questo gioca sempre 1-5 a prescindere forte forte questo è un buff veramente grosso tra 1-4 e 1-5 c'è tanta differenza pensate che Galactus ha 5 body quindi c'è i trap Bob fai gli stessi punti Galactus Ravonna è stata in meta per parecchi mesi ormai è perché 2-3 con la morte di Zabu Ravonna era diventato il vice Zabu e quindi ci sta a portare la 2-2 penso che ci sia poco da discutere qui l'urf è giusto la carta è stragiocata uno dei buff che mi piace di più di questa patch di questa nota patch è Viper Viper Linfo è stata cambiata in alla scoperta una delle altre carte con la forza minore che possiede in questa location pass cambia di lato questa mi piace tantissimo perché Viper prima era una carta molto legata a fare la combo subito perché se no ti dovevi giocare l'RNG ecco quando fanno dei cambi come questo questi sono dei cambi che vanno contro l'RNG e sono dei cambi che io apprezzo tantissimo questo è un cambio bellissimo che hanno fatto Viper Viper adesso è giocabile sempre anche se tu vuoi continuare a giocare nella location magari dove hai The Hood non hai problemi a fare Viper alla fine e quindi secondo me questo è un cambio che ci sta assolutamente forse il body è lasciato un po' alto non lo so ormai i 3-5 stanno diventando nella media come vedi Bob è stato portato 1-5 Sauron che non si gioca più da parecchio tempo era stato nerfato 3-2 una volta è stato portato 3-3 non si è continuato a giocare lo portano 3-4 e Sauron non è brutta come carta è l'archetipo che non sta vedendo gioco cioè Sauron è quella carta che tu vuoi giocare di turno 3 poi se era una 3-2 una 3-3 una 3-4 poco non ti interessava troppo in realtà sicuramente è un buff però non è quella tipologia di buff che ti cambia la carta è un buff che dipende dall'archetipo se l'archetipo rientra in meta lui si gioca si giocava anche 3-3 quindi non è non è un buff che mi fa impazzire a livello di comprensione del gioco secondo me ti piace Sauron a di un po' io non l'ho mai giocato però penso che il problema appunto non sia la carta in sé ma sia le carte a supporto di questo archetipo eh sì invece una carta che è buona e che ho con questo buff secondo me tornerà tanto ad essere giocata perché 3-1 era effettivamente un punteggio un po' bassino di partenza 3-2 è un punteggio che ti invoglia assolutamente a tornare a giocare Ligantropus Ligantropus che quando uscì 3-3 era una carta completamente broken forse una delle carte più forti all'uscita al tempo e 3-2 torna a essere una carta che secondo me vedrà assolutamente il gioco soprattutto perché i mazzi di Silver Surfer da un po' di tempo hanno ripreso a vedere anche il gioco quindi non mi sorprenderei se trovassi il suo slot in Silver Surfer Ligantropus che cosa ne pensi sarebbe Werewolf by Night sarebbe Werewolf by Night esatto ah ok vabbè ci può stare come buff Hitmonkey invece per me è un buff inspiegabile cioè si è sempre un più uno però è una carta che vive del suo reveal cioè più riuscite a sfruttare il suo reveal più diventa forte è una carta che volete far diventare 310 312 314 quello che è che parte 3-3 non è che cambia granché questi sono i buff che non capisco cioè questi sono i buff che non capisco che secondo me farlo due mano è troppo forte sì due mano è troppo forte che prende più 3 è sicuramente troppo forte anche se lo facevi magari 3-0 che prendeva più 3 diventava troppo forte perché faceva di punteggiati è giusto che abbia più 2 forse 3-3 un po' più decente ci può stare un buff ci può stare e adesso arriviamo alla notta dolente di questa auto patch caro lì far ora si metta seduto l'okjo carta amata da sempre in questo gioco chi è che non è chi è che ha giocato a marve snap da un po' di tempo o dall'inizio del gioco che non ha amato l'okjo alzi la mano non vedo nessuno in chat alzare la mano non capisco perché signori l'okjo che era stata portata a 4 mana si vedeva pochissimo è rimasto 4 mana gli hanno tolto uno di body appena ho visto che gli hanno tolto uno di body già avevo capito che il disastro stava per essere fatto dopo che giochi dopo che giochi una carta scambialo con una carta nel tuo mazzo una volta per turno è stato tolto quindi è tornato il l'okjo di sempre che non ha più limiti di attivazioni all'interno dello stesso turno sicuramente a 4 mana è più lento però è l'okjo ragazzi è il vecchio l'okjo quindi capite bene che adesso con i martelli con wasp con wasp più un'altra carta è tornato il vecchio l'okjo che può vincere una location si potrebbe quasi tornare a giocare Thanos forse con questo l'okjo qui io penso che lo rivedremo a parte che stasera già l'abbiamo visto in qualche partita l'hanno giocato diverse partite è un buff che non se ne sentiva assolutamente il bisogno ci sono tantissime carte all'interno del gioco che non sono mai state toccate io non capisco perché le carte che sono state tossiche come è stata Angela che poi l'hanno riportata di nuovo cioè la seconda sono un po' incompetenti diciamo la verità sul punto di vista del bilanciamento va bene così va bene così l'infor vuole aggiungere qualcosa sul l'okjo? hai detto perfettamente tutto quello che pensavo io cioè non ho altro si accoda gli insulti a secondino va bene assolutamente sì infatti non gioco più da quanto lo sai eh no lo so lo so lo so ragazzi come sempre io vi invito a dire nei commenti che cosa ne pensate voi anche carta per carta il vostro pensiero sono veramente curioso noi ne analizzeremo adesso in live poi domani vi vedrò i vostri commenti su youtube spero che il video vi sia piaciuto ringrazio l'infor lasciate un like un'iscrizione una condivisione attivate sempre la campanella per rimanere aggiornati con le news e le notizie del canale noi ci becchiamo in live tutte le sere è bello